La regina italiana è nata a Milano nel 65, quindi è anche una delle più vecchie, ma è molto poco conosciuta perché in effetti siamo molto più conosciuti da chi lavora nel campo per l'aiuto umanitario che dal grande pubblico. E' anche quindi anche importante se volete farsi conoscere perché in effetti la quantità sia unica ipotesi che fa in cielo per il mondo è davvero importante, forse una delle più grosse interventi degli uti umanitari in Italia lo sta facendo in questo momento. Lavoriamo in molti casi, dicevo, che non sempre si è a conoscenza di quello che si fa e lavoriamo anche grazie all'aiuto di migliaia di persone. Per quanto è importante, se volete, la proprietà e la libertà, trovate nel banco di parte a cui ho visto dato dall'ingresso una busta dove se volete potete dare il vostro nome e eventualmente se ritenete un'offerta che è quello che noi pensiamo di poterci impegnare a fare e tenere costantemente gli informati su come verranno utilizzati questi soldi, in che modo si opera e si agisce con l'aiuto che tutti i voi ci date. Coppi in effetti, come dicevo, operi in tantissimi campi, dall'agricolo alla sanità.